Pochi tamponi domenicali e meno positivi rispetto agli ultimi giorni. Le Marche contano 46 contagi nelle ultime 24 ore sulla base di 737 test effettuati, di cui 331 nel percorso screening e 406 in quello dei guariti. La percentuale di positività sale però al 13,9%, mentre diminuisce il tasso di incidenza settimanale su 100.000 abitanti, pari al 77,9%. I ricoveri sono invece in aumento di 4 unità rispetto al giorno precedente, per un totale di 55, di cui 6 in terapia intensiva. E fortunatamente non si conta nessun decesso. La mappa per province vede il maggior numero di casi nel Pesarese con 23 positivi, segue Ancona con 17, 4 macerata, 1 a fermo, 1 da fuori regione e nessun nuovo caso nel Piceno. Nel sud delle Marche, dopo i focolai d'inizio estate, la situazione sembra essere tornata sotto controllo e le vaccinazioni sono arrivate a coprire un 65% della popolazione, anche se l'obiettivo è arrivare al 70% entro ferragosto. Si sta andando abbastanza bene, mi pare tutto organizzato, no? Quindi mi pare che i problemi non ce ne sono, anzi i problemi sono inversi, sono quelli che non vogliono fare il vaccino, perché per il resto mi pare che c'è tanta volontà da parte dell'ente pubblico. Lei ha già fatto la prima dose? Veramente l'ho fatta sì un mese fa circa. Il Green Pass quanto incide su questa decisione? Il Green Pass incide parecchio, specialmente sulle attività, è molto molto importante. Da questa settimana a fine mese però le somministrazioni subiranno un rallentamento anche per via degli scarsi rifornimenti, fanno sapere le addette ai lavori. La direzione dell'area Vasta 5, guidata da Cesare Milani, comunica quindi che a partire da questa settimana fino a fine mese i due centri vaccinali di Ascoli al Palazzetto di Monticelli e a San Benedetto al Palaspeca resteranno aperti solo di mattina. Chi aveva prenotato per il pomeriggio sarà contattato telefonicamente dagli operatori per riprogrammare gli appuntamenti fissati, oppure gli utenti possono presentarsi direttamente in autonomia nel centro vaccinale nelle mattine dei prossimi giorni, purché entro il 42esimo giorno dalla prima dose. I due hub resteranno invece chiusi l'intera giornata a ferragosto, il 16 e nelle domeniche del 22 e 29 agosto.